Consentitemi ragazzi di dire una cosa prima di parlare del documentario? Sì. No, ok, non c'è, io sono... Consentitemi di dire questa cosa, perché è veloce veloce, perché quando io incontro il talento, per caso, mi capita di incontrare il talento, Grazie, grazie. No, quando... Non siete voi. Venerdì scorso, è l'unico giorno in cui posso fare qualcosa, sono andato a teatro, sono andato a teatro, mi hanno portato lì a teatro, e ho visto questo spettacolo qua, Fino alle Stelle. Due ragazzi che non conoscevano, giovanissimi, guardateli qua. Ricordatevi questi nomi. Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. In questo spettacolo, da soli, loro due, in scena... Ti hanno colpito. Mi hanno colpito tantissimo, sono bravissimi, quindi per me chi ha talento va condiviso, io lo voglio condividere con voi. Loro sono a Roma, sono a Roma al teatro Manzoni, credo fino al 10 dicembre, io sono rimasto un'ora e mezza, mi facevano male le mani per quanti applausi è fatto. Quando incontri il talento, quello vero, lo riconosci subito e ti emozioni. Io mi emozionavo, ero felice di vedere questa cosa qua. Dai, dai, dai. Fino alle Stelle. Io starei per loro o starei un'ora così? Vabbè.